Ti spiego perché sono arrabbiato, perché tu dici piano piano mi sto allontanando, ok? Poi arriva la festa della Taranta. Ma che c'entra? Ma una festa che ha fatto un palletto. Allora, alla festa della Taranta purtroppo siete cascati male, perché io stavo guardandovi. Eh, figura. E purtroppo, anche se era sabato sera, non ho di meglio da fare, purtroppo. Scusa, a parte che lo... Però, complice qualche bicchiere di troppo, ma non mi interessa il bicchiere di troppo, perché gli antichi dicevano in vino veritas, tra te e Garibaldi è scappata una tale attrazione erotica che era veramente, si tagliava... Guardiamo le immagini, scusate. Abbiamo fatto un ballo e basta, dopo non ci siamo parlati più. Eh, lo so, però quando lui ti corteggiava, che veniva sotto di te, era veramente... C'erano degli sguardi, degli sguardi... No, non puoi dire, Beatrice. Ma dai, ma non si... Io ballavo anche con... Guarda, stavi lì a sognare tra le sue braccia, scusami, eh. Guardati. No, no. Cioè, mi metti anche la mano sul sedere, Beatrice. Alfonso, io ho ballato così anche con Rosi, con Letizia, con Max ho ballato. Scusa, guarda lì, guarda. Ma io ho le mani dietro, guarda come so. Sì, prima, dietro, no. Ho le mani dietro. Guarda come lo guardi. 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 Grazie.